Orgogliosissimi di aver esordito, di aver portato per la prima volta live il primo brano che andrà a comporre praticamente l'imminente album. Purtroppo con il temporale che c'è stato qualcosa è andato un pochettino storto, le pedaliere non partivano. Parte di sequenze dove c'era la parte orchestrale non c'era, fortunatamente avevamo Mattia Bossi che ha coperto parte degli archi live ma in realtà in sequenza avremmo avuto anche una piccola parte orchestrale che avrebbe reso ancora più bello il brano però insomma ci siamo divertiti un sacco, è venuta fuori la versione un po' più grezza e davvero rock e roll fortunatamente in un parco dove poi tutto sommato ci può anche stare, speriamo di poter avere altre occasioni e insomma felicissimi di essere qua, siamo i Bloom